4.224 minori soli arrivati in Italia tra gennaio e novembre 2020. Almeno 759 in Europa le vittime dei viaggi della speranza, spesso traditi da barconi sovraffollati. Bambini e ragazzi in fuga da guerra, povertà e violenza. Un'emergenza umanitaria da affrontare. Nel Palazzo del Governo stamattina la presentazione del sesto report sui minori non accompagnati in provincia di Potenza. Dati forniti dal Ministero degli Interni elaborati dall'Istat nell'ambito di una ricerca voluta dall'Unicef. Noi oggi sappiamo quanti minori ci sono, sono 74, sono tutti di sesso maschile, hanno metà media di 16 anni, sono dislocati nelle strutture. Abbiamo anche monitorato le strutture che hanno 92 operatori professionali. Sono seguiti, una delle competenze principali della Prefettura è l'immigrazione e nell'ambito dell'immigrazione molta attenzione è dedicata al problema dei minori stranieri non accompagnati. Per cui ben volentieri abbiamo aderito alla proposta Unicef di stipulare questo protocollo, che non è altro che un progetto finalizzato a rendere più proficua l'accoglienza. Da gennaio poi al via una prima azione, frutto di un accordo siglato dal Presidente nazionale dell'Unicef Samengo, recentemente scomparso. Percorsi di formazione per ragazzi e operatori, obiettivo aiutarli a costruire la loro identità intrecciando radici e futuro.